Erano 60 uomini, i migliori, messi contro più di 500 soldati nemici. Riescono a tenere un duro per tre giorni, ma i nemici sono troppi. Di quei 60 ne rimangono solo tre. Ormai sono spacciati, e il nemico lo sa. Appostandosi sotto i cadaveri dei loro compagni, tornano in prima linea. Su di loro gocciola il sangue dei morti. La sabbia incrosta la loro pelle, li trasforma, segnandoli per sempre. Appena il nemico si avvicina, quei tre emergono dalla sabbia come cacciatori invisibili alla vita, pronti ad avventarsi sui nemici nervi. Quando la sabbia torna a posarsi, solo un nemico è sopravvissuto. Lo sporco della macchina! Quando si vuole partire? Si vuole partire? Vai! 3, 2, 1... Ciao! No aspetta aspetta, devo passare la volume della tele. Giorgio. Eh... Ciao! Ciao! Ciao sono Eddie! Ciao! Ciao! Bello! Bisogna non dare un po' perché il microfono è là, anzi... Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Sono Eddie! Anch'io! Lemino in Veneto! Tombolo! Tombolo! No mi sono trasferito a Tombolo, per la patata! Aspetta se... Questo è Franco Veneto! Il Franco Renato! Vabbè! Bella a tutti! Suocere gasate, acqua e brittanti! Ferrarelle! Sono... Matto Giusei! Ascolto Matto Sei! L'SLTIC! E finalmente siamo qui tutti e tre insieme per fare un fantastico video per il ringraziamento dei 100 iscritti! Ma babbano! Sono 99! Sono 100 porca troia! Andresultiamo! Eeeeee! Siamo qui, sono in una partita privata! Contro... Su! Il paesano è il tombolo! Però bisogna dire... Per la patata! Sì! Siamo in una partita! Sì! Finalmente perché? Cos'è? Che cazzo! Oh! Controlla! Guarda che bello! Quindi... Siamo pronti così... Siamo qui su salvaguardia! Sì! Ma... Ma magari se mi... Ma vai a fan! Posso dire una cosa io? Abbiamo notato che salvaguardia fa davvero schifo! Ma la tagliamo sta parte! Ma che la tagliamo? Non preoccuparti! Ah ma che cazzo è! Ma hai scontato! Ma non l'ho rotto! Ma ce l'ho trusciato! Però cosa allora un attimo li misero l'hai rotto! Ma ascoltami! Fai così! Non ce l'ho provato! No! Fai così! Ti continua a girarlo! Va bene! Ringraziamo per i 100 iscritti! Dai! Grazie di cuore! Grazie di cuore! Soprattutto per il fatto che ha fatto un video! Che non sia un vlog! Grandissimo! E... Quindi niente! Ringraziamo tantissimo il nostro caro amico Bobs! Sì! Per averci... Per avermi dato la possibilità di registrare con lui un fantastico... Diciamo che è il nostro sguardo preferito! Ti chiamano Asker? Davvero? No! Ha vibrato però! Una domanda su Asker! Oh! Su Asker! Asker! No! Non ho notificato! Ma vai a... Oh! Dai! Che partita è partita! Oh mio! Oh mio! Oh mio! Bella goccia! Aiii! Bella goccia! Bella goccia! Ma dove c'è quest'arma? Perché è sempre così in effetti! C'è sempre il bulldog! Non c'è mai giocato in effetti! Sì! Che c'è ci fa? Però sai come puoi anche scherzare? Aera! 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 Ma dove ci fai che io muoio subito? Oltre a fatto che mi ha lanciato un po' Che cazzo fa da quando è che spara l'effetto? Eh ma perché non ho ancora ucciso nessuno? Oh no! Ma sei in tema perché mi vai cagare addosso! Ma non è d'oro! Mi amico Giorgio aiuto! Aiuto! Ma hai detto ma raga ma dov'è il tipo di... Sei imboscato! Sei imboscato! Io so solo che non riesca a tenere il ferro! Oh eh lo visto! Ho visto! Non ci credo! Ma guarda! Ma vai a cagare! Che bello adesso c'è Giorgio il pezzo! Oh il cato vai a... Falcat vai a... Oh 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 oh! Tu ti muovono tutta la minchia? Oh! No! Pezzo di merda! Oh yeah! No faffanculo! Ma vai a cagare vai a... Vai a ma ha sciuttato! Ma non ci credo! Ma vai a merdiare nel bene! Dov'è? Sì! Abbiamo vinto! Tornato! Sono strabravi! Dobbiamo finire... Eh c'è sto qua sdraiato! Puoi anche sederti dritto eh! C'è sonno! Cicci! Eh buone feste! Grazie per aver guardato questo video! Migliori best video! Di domenica! Però a te ceci! Si fa quello che si fa! Se ceci è per tutti! Se non ceci mi dispiace! Cicci! 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 Mi sarà piaciuta! Soprattutto quella perché è il fulcro del video! Il fulcro! Quello è il fatto che siamo arrivati a 100! Fino al merda! E anche il fatto che è Natale! E anche il fatto che è Natale! Quindi vi auguriamo delle feste piene di gna 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 gni 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 di tanti swaggi! E salutiamo anche Francesco Rumbi che è un mio caro amico di infanzia! Chi è Francesco Rumbi? Che cazzo ne so! Ciao Francesco ci vediamo! Ci vediamo Francesco Rumbi! Ciao! Ciao! Buona giornata! Bella! Bella! E buon Natale! Buon Capodanno! E buona festa della Befana! E ragazzi scrivete nei commenti! Che cazzo ne so! Scrivete nei commenti se a Capodanno avete messo incinta la vostra ragazza! Bella! Ve lo faremo sapere anche noi! Io poi!